Mi chiamo Marco Maccafferri e abito a Formica. Ho 56 anni e sono un artigiano. Mi hanno proposto la candidatura e io ho accettato perché in questi dieci anni, nonostante la crisi, hanno operato a mio avviso molto bene. Se vero eletto garantirò il mio impegno per portare avanti sia i progetti che le istanze fino alla fine. Per questo ti invito a dare il tuo voto a Rosa Maria Carmignano.